La forza è ormai tra noi, l'ultimo capitolo di Star Wars è arrivato anche in Italia e i fan sono praticamente impazziti Talmente impazziti che qualsiasi cosa riguarda la saga li fa ancora più impazzire, me compreso E questo video sono convinto che farà impazzire tutti voi In questo video vi farò vedere come sfruttando Chrome potrete trasformare il vostro smartphone Android e iOS in una vera e propria spada laser Spada laser da utilizzare in contemporaneo sullo schermo del vostro computer tramite ovviamente il browser di Google Nel quale vi trasformerete in un vero e proprio Jedi Non vi dico più niente, quello che vi dico ragazzi miei è tenetevi forte perché è veramente una cosa molto divertente Per me è proprio una gran figata Io sono Dario Caliendo, questo è un nuovo video di TechFanPage e vi do il benvenuto Sfuggire al proprio ordine utilizzando il proprio smartphone come spada laser è semplicissimo Tutto quello che bisognerà fare sarà andare con Chrome nel sito g.com.lightsaver Il sito che praticamente racchiuderà il gioco Il gioco che potrà essere comandato proprio tramite il proprio smartphone Per trasformare lo smartphone in una spada laser Tutto quello che bisognerà fare è una volta andati sul sito sul computer E letto l'indirizzo che verrà visualizzato sotto il nome del gioco Quindi in questo caso g.com.lightsaver.od4ob Inserire questo indirizzo nel browser nello smartphone Che può essere un dispositivo Android o un dispositivo iOS Inserito in indirizzo lo smartphone si connetterà automaticamente al gioco Gioco che vi richiederà di eseguire una calibrazione della spada Proprio premendo il tasto calibra E voilà il gioco è fatto cari miei Una volta eseguita la calibrazione inizierà il gioco Gioco nel quale quindi voi dovrete eliminare tutti i soldati del nuovo ordine Utilizzando proprio la spada laser Che sarà controllata tramite accelerometro e giroscopio del vostro smartphone Bisogna ammetterlo per quanto possa essere un pochino ripetitivo Si tratta di un sistema veramente divertentissimo Sfruttare accelerometro e giroscopio del proprio smartphone Per utilizzare la spada laser nel gioco Che viene riprodotto nel computer tramite il browser di Google È veramente fantastico Io sono Dario Caliendo L'appuntamento è al prossimo video di TechFanpage E come sempre vi mando un abbraccio Ciao 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 Ciao